Quando parliamo di marginalità, la cosa che si intende qual è? Spesso e volentieri tendiamo a focalizzarci fondamentalmente sull'incasso, quindi sul totale di quello che noi abbiamo incassato e misuriamo l'andatura del nostro locale in base a quello. Dico, ok, oggi ho incassato 500, è andata bene, ma la cosa importante, la cosa fondamentale è la marginalità che noi abbiamo su cui 500 euro, nel senso che non conta il fatturato ma conta la marginalità, quindi se io per incassare 100 euro ne spendo 80 ho 20 punti di margine, se io incasso 50 ma per incassare 50 ne spendo 20 ho 30 punti di margine, quindi fondamentalmente rischio per 100 e guadagno 20, rischio per 50 e guadagno 30. L'errore che si fa è quello, pensare che, ok, fatturo un milione l'anno, quindi sono una grande azienda, lavoro bene e ho tanti guadagni, non è detto, perché magari io per incassare un milione ne spendo 950 mila, quindi ho 50 mila euro di margine, mentre invece magari una piccola azienda che incassa, fattura 100 mila euro e viene vista come una piccola azienda, quindi in realtà è inferiore, però magari per incassare quei 100 ne spende 40, porta una marginale di 60 mila euro, quindi guadagna addirittura più della società che fattura un milione. Questo deve essere rapportato anche alle piccole imprese, anche alla quotidianità, anche quando parliamo di un singolo prodotto, bisogna sempre guardare fondamentalmente dove è la marginalità e quanta marginità abbiamo per poter poi decidere quello che fare in seguito.